Ma che dichi? Ma leva mano, leva! Ma prima sai che lui l'avesse trovo, ma sai da quanto tempo lo sapeva che il monno c'era pure il monno nuovo? E siccome la gente ci rideva, lo sai che fece un giorno? Prese un ovo e lì, in presenza a chi non ci credeva, gli fece, dice adesso ve lo provo. E lì, davanti a tutti, zitto zitto prese quell'ovo e senza complimenti, poffate! Gli lo fece regge dritto. Eh, ner vede quell'ovo dritto un piede, puro li più contrari, più scontenti. Eh, San Marco, ce cominciorno a crede. Ce cominciorno a crede, sì signora. Ma al solito, a sto porco di paese, si forse trova appoggio per le spese della scoperta, gli toccò a naffora. E siccome a quel tempo lì, dall'ora, regnava un re d'Espagna portoghese, agne den Portogallo. E lì gli chiese di potergli parlar, pu' un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica, e poi gli disse, io avrebbe l'intenzione, se lei m'aiuta, di scoprir l'America. Eh, fece regge, ed era un uomo esperto, sì, v'aiuto, ma non peffa eccezione, ma st'America c'è. Ne siete certo? Basta. Vabbè, dunque, peffa breve il discorso, gli fece re. Quel capromesso lo mantengo, ma dice, ve confesso che io non ce vorrebbe aver imorso, per cui st'affare qui ha da far su corso, perché io si governassi da me stesso, che c'entra? Ve direbbe annata adesso. Ma allora fece lui, con chi ho discorso. Ma voi chi siete? E re o un particolare? Per essere esso re, non c'è questione, ma mica posso far quel che mi pare. Vuol dire che voi portate gli registri delle spese, l'esatta relazione, che vi farò parlare con i ministri. E i ministri di qualunque stato, so stati sempre tutti di nasetta, irre e orre, te portano un barchetta, e te fanno contento e coglionato. Accusi lui, ce si trovò incastrato, a dove gli per forza dagli eretta, gli fecero la solita scoletta, da erode lo mannaveno a pilato. E invece di venire una decisione, sa, gli fecero senza complimenti, qui bisogna formare una commissione. Lei andrà a spiegare che si tratta, e dice, qua non lo so contenti, ritorni puro, che la cosa è fatta. Eh, già che ho fatto trenta, fece quello, beh, dice, che vuoi fa? Famo trentuno. C'è Dio, servete, fratello. Lo tenevano lì come il zimbello. L'interrogorno tutti, uno per uno, e poi fecero, dice, servo ognuno, ma questo si è sbortato di cervello. Lui parlava, ma manco lo sentivano, e più lui si ammazzava per scoprirla, e più quell'antri gliela ricoprivano. Ma lì, secondo me, nei segreti di quel complotto lì, ma manca a dirla, c'era sotto la mano degli preti, che mettetelo in testa che il pretaccio è stato sempre lui, sempre lo stesso. Il prete è stato sempre quello maccio, nemico della patria e del progresso. E in quelli tempi, poi, sì, un poveraccio, se fosse Dio ne scampi compromesso, lo schiaffavano sotto catenaccio, e quel che era successo, era successo. Essi poi gli inventavi un'invenzione. Te davano per Cristo la tortura nel tribunale dell'inquisizione, e una volta lì dentro, sarvo ognuno, la potevi tenere più che sicura, da fa' alla fine de' Giordano Bruno. Lui, defatti, si è messo in diffidenza, e fece, dice, qui pervicinato si sente un po' de' buzza da bruciato, ma fresca dice, qui ce vò prudenza. Defatti tornò su da sua eccellenza, gli fece, beh, cos'hanno combinato? Eh, dice, sa, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbia pazienza. Ma lui pensò, ma qui giocava a palla, ma qui me vanno mettenere il canestro, ma sai che non face, è meglio a piantarla. Ma voleva piantà, ma una mattina, ma andovina c'è un po', noi vi è l'estro di voler annà a parlà con la regina. E lì, defatti, come se trovorno assieme, lui gli fece, sa, mi pare che, dice, è meglio a dire cose chiare, tanti galli accantanze, fa' mai giorno. Ce vado, ce ripasso, ce ritorno, gli dico, dunque, vede quell'affare. Quale, dice, quel gran viaggio di mare potrebbe ripassare un altro giorno? Ma che crede, che ce n'ho fatti pochi desti viaggi, per cui dico, che famo? Dico, sacra maestà, famo li giochi? Dunque, lo dica puro a suo marito, si me ce va a mannà, che combinamo. Sino, vado a provar'n qualche altro sito. Che qui fra re e ministri, baricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarn, per cui sa, meridia di giocarelli, che fottela. Ma scusi le domande, fece lei, lei, che vo? Tre navicelli, e ognuno vu da caso quanto granne. E, fece lui, sul genere de' quelli che portano il marsala riba granne. Va bene, fece lei, vi sia concesso. Capischi sì com'è, io venne bene, che io li fece da, quel giorno stesso, e lui, sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciorse le catene, e agniete in arto mare, come un razzo. Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stavano a mollo. Guarda, riguarda, hai voglia a sdungar collo, l'America era sempre più lontana. E ogni tanto veniva una buriana, lampi, furmini, giù a rotta de' collo, da di qui se va tutti a scapicollo. E dopo, dopo una giornata sana de' tempesta, schiariva poco a poco. L'aria scottava che pareva un forno, respirasse, respirava, er' foco. E come che riarzavano la testa, quelli avanti, passava un altro giorno, padabun, fada giù, n'antra tempesta. E figurate quelli che c'è stavano, figurate che straccio d'allegria. Avanti, sempre avanti, tribo laveno. E l'America, sì, va a te la pia. E poi, con tante bocche che magnaveno, magna, magna, se sa, per quanto sia, le proviste più stava e più calavano. Per cui qui dice, e mai avveni via. E de' fatti capischi, un po' per volta, cominciavano a dir, ma dove andamo? Ma sta' accidente qui, dove c'è porta? E a botta a botta, ar fine venner giorno che fecero, per Cristo, ma che famo? I agnetero davanti e glie parlorlo. E glie fecero, dice, c'è dispiace, c'è dispiace da dirlo davanti, ma qui, chi più chi meno a tutti quanti sta bucerata qui, poco ci piace. Così lei puro fatevi capace, qui non ce son né angeli né santi, qui ogni giorno de' più, che se va avanti, se va dalla padella nella brace. Avanti, avanti, so parole belle. Ma qui non ce son tanti sacramenti, caro lei, qui se tratta della pelle. Già speramo che lei sia persuasa. Se no, dice, non facci i complimenti, va di puro, ma noi tornavamo a casa. E, fece lui, si avevi o sti intenzione, potevi o fa de' meno de' far viaggio, pensacce nel momento dell'ingaggio, non mo, che stavo qui in agitazione, che non se sa, quando cuno se spone, ha da sta col vantaggio e lo svantaggio, almeno, così fa chi c'ha coraggio. Ah, glie lo disse bene, e col ragione. Perché, quando uno, caro mio, se vanta ad esse un uomo d'onore, quando ha dato la parola, deve essere sacrosanta, e si alonga la strada, o brutta, o bella, ma cara Cristo ha da morì ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma, d'altra parte, quelli ciurcinati, puro loro, eh, bisogna compatirli, lì, soli in mezzo al mare, abbandonati, se dice presto, rimanete tranquilli, capisco, di chi tu, ce siete annati, dunque è inutile a fa' tutti sti strilli, ma dimmi un po', dove erano arrivati? Che facevano lì? Qui sta Erbusilli, e ogni giorno era come il giorno appresso, oggi era brutto, speravi domani, te svegliavi domani, era lo stesso, e senza mai sapere dov'una nasse, Cristo Gesù Maria, manco li cani, deve essere stato un gran brutto trovasse, e io nella mia piccola ignoranza me ci investo, fa tutto quel cammino, arriva in arto mare, arriva in sino, in sino a quella straccia da distanza, e vede della morte in lontananza, vo' le vive, e sentite lì vicino, nell'orecchio, la voce del destino, che te dice, lassate igni speranza, ma pensa quer che deve avesse offerto quell'uomo, immassimato in quer pensiero, de di, la terra c'è, sì, ne so certo, e lì, sul punto d'esse c'è arrivato, esse certo per Cristo che era vero, e dove di, vabbè, ma so sbagliato, ma lui, che quanto sia già c'era vezzo, a parlà per convince le persone, gli fece e dice, andiamo con le bone, venite qui, spaccamo il male in mezzo, è vero sì, se tribola da un pezzo, per cui, per risolvere sta questione, non c'è altro che fa sta convenzione, che a me, me pare sia l'unico mezzo, che noi, pantri due giorni, andiamo avanti, e sì, proprio per Cristo, non c'è niente, se ritrocede indietro, tutti quanti, ve capacita? quelli c'è pensorno, beh, dice, so due giorni solamente, beh, gli fecero, andiamo, e seguitorno, ma lui capischi, lui la pensò fina, lui, si era fatto già le sperimenti, e dal modo che agivano li venti, lui capì che la terra era vicina, per cui lui fece, intanto si cammina, beh, dunque dice, fameli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti, dei fatti, come venne la mattina, terra, terra, per Cristo, e tutti quanti, rideveno, piagneveno, zompavano, terra, terra, per Cristo, avanti, avanti, e lì, agli gran pericoli passati, chi c'è pensava più, se abbracciavano, se baciavano, c'erano arrivati, dunque, come finì, finì benone, finì, che quando tutto era finito, si cominciò a formare, come un partito, che gli voleva far l'opposizione, gli dicevano, sì, avete ragione, non c'è niente che di, siete istruito, e l'America, sì, non c'è questione, ma poi, se invece fosse, un altro sito, ma lui, li messe con le spalle al muro, gli fece e dice, ah sì, ne dubitate, me dispiace, ma io ne so sicuro, vor di che poi, se voi non ce credete, domani presto, al primo che incontrate, annategliela di, che sentirete, e quelli puntuali, appena giorno, che ce se cominciava, appena vede, se ne agniedero, e come che sbarcorno, non sapevano dove metter piede, defatti, appena scenti, se travorno davanti, a una foresta, da non crede, dove che malappena, che c'entrorno, che voi vede per Cristo, lo stravede, te basta di che lì, in quella foresta, capischi, le piantine di cicoria, gli arrivavano qui, sopra la testa, e quelli già se sa, so sì di barberi, ma tu invece di ride, pia la storia, e poi tu vien ma di, sì che so l'arberi, che lì l'arberi, amico, o callo o gelo, beh quelli, dagli secoli passati, da che domine Dio, ce l'ha piantati, so rimasti a così, questo è Vangelo, e lì cammini sempre, in mezzo a un velo, d'un ciafruglio, di rami, intorcinati, con l'antri rami, che tesori, vati, che le punte per Dio, sfondano er cielo, e l'erba, sta intrecciata, così stretta, che una persona, lì, si vuonna avanti, bisogna che la rompe con l'accetta, e poi che rompi, sì, ne rompi un metro, ma all'ultimo bisogna che la pianti, che lì fai un passo avanti, e cento addietro, ma poi non serve a dirle tutte quante, la gran difficoltà di quella serva, è che tu, lì, tra mezzo a quelle piante, tu ogni passo che fai, trovi una berva, e lì, capischi, ce ne trovi tante, come stassero torrento a una riserva, e cebazzica puro, l'eliofante, che sarebbe, il purcid della minerva, e, panna lì, bisogna, esserci pratico, perché poi, quando meno te l'aspetti, cer caso di incontrar, l'omo servatico, e quello è peggio assai, degli leoni, e quello da se magna, a cinichetti, via se magna, co' tutti gli garzoni, e quelli, quelli, gli è successa questa, che mentre lì, fra mezzo a Arvilludello, così arto, pentrà nella foresta, rompevano l'iramico, il cortello, veddero un fregno buffo, con la testa, dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo, con la caresta tutta formata, di penne d'uccello, se fermorno, se fecero coraggio, a quell'omo, gli è fecero, che siete, e fece, chi odesse, son servaggio, e voi altri qua giù, chi fece manna, ah, gli è fecero, poi lo saperete, quando vedremo il re, che ve commanna, e quello, allora, gli è fecer piacere, di portarli dal re, che era un surtano, vestito tutto d'oro, con cimiere, di penne, che pareva un musurmano, e quelli, allora, co' buone maniere, dice, sa, noi venimo, da lontano, per cui dice, voressimo sapere, se lei, siete, o non siete americano, che dite, fece lui, da dove semo, siamo da qui, ma come so chiamati, sti posti, fece, noi, non lo sapemo, ma vedi, si, in che modo, procedevano, te basta di, che lì, c'erano nati, nell'America, e manco, lo sapevano, e figurate, allora, tutti quelli, ner vederli accusi, senza malizia, gli cominciorno, addi, famo amicizia, viva la libertà, semo fratelli, e intanto, l'antri, su di navicelli, che avevano saputo la notizia, capirno, che la cosa, era propizia, sbarcorno, tutti giù, da li vascelli, e quelli, gli sbattevano le mano, e quell'antri, lo sai come succede, gli davano la guazza, e a mano a mano, che veddero, che quelli, ci abboccavano, che agivano, con tutta buona fede, figuratesi, come li trattavano, li trattavano, come ragazzini, piavano, du pezzi, de specchietti, la manciata, de buie, du pezzetti, de vetro, un astuccio, de cerini, e dicevano, eh, quanto so carini, voler, contraccambiare, vostri oggetti, e tutti quanti, quelli poveretti, gli davano le spille, all'orecchini, figurate, ce fecero la mozza, e lì, le ceste d'oro, accusi arte, le portavano via, con la baruzza, ehi, me farite, come gliele davano, quando me dichi, che da quella parte, lì, li quadrini, non li carcolavano, perché il servaggio, lui, core mio bello, non c'ha quadrini, e manco gli dispiace, che lì, il commercio, è come un girarello, che rischi, siccome è fatta e capace, io son servaggio, e mi serve un cappello, io c'ho un abito, e so che a te, te piace, io te do questo, adesso damme quello, sbarattamo la roba, e semo a pace, accusi per i generi più fini, accusi per la roba signorile, ma loro, non ce l'hanno li quadrini, invece noi, che semo una famiglia, de' una razza, de' gente più civile, ce l'avemo, e il governo se li piglia, ma lì, non ce so tasse, e le persone, taggiscano secondo il naturale, lì, non ce trovi, tante distinzioni, ogni servaggio che vedi, è un uomo uguale, che dichi, che non ce hanno l'istruzione, ma loro, so de' core, e so' reale, e tu finché lo tratti, con le bone, e non ce caso, che lui, te facci male, por di, che si ce fai la conoscenza, che quelli, te spalancano le braccia, beh, tu non gli hai da fa' una prepotenza, si quello, devi affatte le carezze, e invece, tu gli dai di carci, in faccia, se sa, quella risponde, con le frezze, e accusi, finì lì, che vener giorno, che quelli, cominciorno a nangataccia, e quell'antri, gli adiedero la caccia, e vener giorno, che ce la guantorno, e allora, se capisce, cominciorno le lite, e dopo vener volta faccia, quelli, gli eseguì torno, e ride in faccia, ma quell'antri, lo sai, gliela cantorno, dice, lassamo perdere le servagge, se no, dice, mannaggia, la miseria, una volta, o l'antra qui, nasce una strage, ma quelli, quelli, invece, eseguitavano, e allora, diventò una cosa seria, perché le donne, poi, quelle, ce stavano, basta, dunque, laggiù finiva male, quelli, gli eseguitavano, a da sotto, seguitorno le lite, è naturale, cominciava a volare, qualche cazzotto, poi le cose, arrivorno, a un punto tale, che lesto, e presto, fecero un complotto, e qui, prima che schiopper temporale, qui dice, è meglio, assai, de' fa' fagotto, de' fatti, senza tanti complimenti, s'agguantorno, più roba che potevano, la caricorno, sui bastimenti, spalancorno, le vede, in faccia, ar vento, ormai, tanto la strada, la sapevano, e ritornorno, a casa, in dun momento, e quello, che successe, nel ritorno, per quanto, cuno, c'ha immaginazione, come ce voglia, arriva, con la ragione, a capì, quel che fu, quando, sbarcorno, ma, figurate tu, come, ritorno, tutte quelle migliare, de' persone, quando, veddero, quella precisione, de' tutto, quanto, quello, che, portorno, servaggi incatenati, pappagalli, scimmie africane, leoni, liofanti, pezzi d'oro, accusi, che, per portarli, l'avevano da mettere, sul carretto, le perle, li rubini, li brillanti, li portavano, dentro, al fazzoletto, e lui, fu accorto, peggio, d'un sovrano, li rei, gli imperatori, le regine, te dico, gli e baciaveno le mano, le feste, non aveveno mai fine, e da per tutto quanto, ermonno sano, fino per Cristo, all'ultimo confine, onori, feste, e dopo, piano, piano, cominciornoli, triboli, e le spine, che l'invidiosi, che per Cristo, viveno, de veleno, ner vede uno, che arriva, a fa quello, che loro, non cerivano, gli e cominciorno, come li serpenti, mentre che lui, ne manco li capiva, a intorcinarlo, negli tradimenti, e lui, quello, che aveva superato, ridenno, li più boia, tradimenti, del mare, della terra, dei riventi, con l'uomo, ci rimase massagrato, e lui, quello, che aveva straportato, gli sacchi, pieri d'oro, a bastimenti, fu ridotto, a girappeli, con venti, corfì, un braccio, come un affamato, e il re, che lo ripossino, ammazzarlo, dove sta, dopo tanto, e tanto bene, che aveva ricevuto, per straziarlo, con l'antri boia, ci faceva a gara, e dopo avergli messo le catene, voleva farlo mettere alla longara, ma come, dopo tanto, e tanto bene, mi avresti da bacià dove cammino, e invece, mi fai mettere le catene, mi tratti come fossi un assassino, e tu sei gasperone, spadolino, e che c'avai, per Cristo, nelle vene, il sangue delle tigre, delle iene, e che c'avrai nel cuore, il travertino, ma come, dopo tutto, quel che ho fatto, che t'ho scoperto, un monno, e te l'ho dato, mo mi vuoi fia passare, puro per matto, ma sarai matto, tu, brutti, impostore, vassallo, porco, vile, scellerato, via de fora, che ma da magna il cuore, così, avrebbe detto, a quell'ingrato, invece, quello, quello, che era un santo, ha rimase accusi, col cuore sfranto, senz'uno, che l'avesse consolato, e quelli, che gli s'erano rubato, la scoperta, l'onore, tutto quanto, non gli diedero pace, insino a tanto, che loro, non lo vedero schiattato, e l'uomo, tra le grinfie, del destino, diventa tale quale, a un giocarello, che te capita in mano, a un ragazzino, che può esser, più bello, che ce sia, quando che ci ha giocato, un tantinello, che fa, lo rompe, e poi lo butta via, e poi, semo sul solito, argomento, che hai voglia, fa, ma l'uomo, è sempre quello, panno mutarli i tempi, ma il cervello, de lo maccio, c'ha sempre, un sentimento, ma guarda, si c'è un uomo, de talento, quando che è vivo, invece, da tenerlo, sull'artare, lo portano a armacello, dopo more, e gli fanno il monumento, ma quando è vivo, nullo fate piagne, e nu gli fate, in acidiglia il core, e lasciate li sassi, alle montagne, tanto la cosa, è chiara, e manifesta, che il monumento, serve per chi more, ma il monumento, serve per chi resta, ah, il monno, si capisce, il monno è brutto, beve de'n'altro goccio, beh, che fai, va, c'è piano, va, c'è piano, non te lo beve tutto, ma piuttosto, de' beve, a sta maniera, ma dico, dimme un po', ma tu lo sai, si lui, Colombo, proprio, de' dov'era, de' dov'era, lo vedi come è rmonno, quando era vivo, che era un disgraziato, se può di che, nessuno ci ha abbatato, e mo non c'è più, tutti lo vanno, non fa niente, ma intanto da rispondo, li francesi, ci avevano provato, e si loro, non se lo so, agguantato, è proprio, caro mio, perché non ponno, eh, quelli già, so sempre d'un paese, e tutto poi perché, per la gran boria, de' pot' di che, quello era francese, ma la storia, de' tutter monno sano, è la storia, per Cristo, è sempre storia, Cristoforo Colombo, era italiano, e l'italiano, è stato sempre quello, e si viene forestiere, da lontano, si becca a visto, tutter monno sano, si arriva qui, sa da che va il cappello, qui Tasso, Metastasio, Raffaello, Fontante Trevi, Erpincio, Erlaterano, la Rodonna, San Pietro, in Vaticano, Michelangelo, Erdante, Magliavello, ma poi non serve, mo' che ti incomincio, a dirgli tutti, tu si te la gusti, tutti st'omini qui, vattene Arpincio, e lì, mica hai da fa' tanti misteri, che quelli busti, prima d'essere busti, so' stati tutti quanti, omini veri, e che omini, sopra il naturale, che il monno ce l'invidia, e ce l'ammira, e l'italiano, ce ha quel naturale, che il talentaccio suo, se la rigira, per ipotesi, vede uno che tira su una lampena, fa mente locale, e te dice, sape, la terra gira, ce ripensa, e te scopre il canocchiale, e quell'altro, te vede una ranocchia, che era morta, la tocca con seppetto, e s'accorge, che muove le ginocchia, che fa? Te ci congegna, un meccanismo, a un altro, non gli avrebbe fatto effetto, l'italiano, ti inventa eletricismo, così Colombo, lui, cor suo polere, seppe convince, l'ignoranza artrui, e come ci arrivò, col suo pensiere, e che la si com'è, dunque per cui, li siamo sempre lì, fammi il piacere, lui perché la scoprì, perché era lui, se invece fosse stato un forestiere, che ce scopriva, li mortacci sui, quello invece, da inventa l'incredibile, che si poi quello, avesse avuto appoggi, ma quello avrebbe fatto, l'impossibile, si c'aveva l'ordigni, degni di marina, che se troveno adesso, al giorno d'oggi, ma quello, ne scopriva una ventina.